Buonasera cari amici, ecco il dado è tratto. Mi raccomando abbiamo pochi minuti insieme ma saranno particolarmente densi e state pronti a poter fotografare alcune pagine che vi mostrerò che sono di determinante importanza. Prima sappiamo che da ieri c'è il nuovo decreto, un nuovo decreto legge, domani lo studieremo insieme, ci sono parecchie cose da valutare, già ci sono delle follie di cui parleremo, voglio dare solo due piccole microscopiche perle, due, tre piccole perle e poi andremo a una cosa di importanza determinante. Piccole perle, primo, non si è mai visto in nessun paese civile della faccia della terra che un governo, un capo dello Stato si presenti in televisione, spieghi un decreto legge, una legge dello Stato in 40 minuti, la spieghi articolo per articolo, citi un articolo in cui comunica che si potranno andare a trovare i congiunti all'interno della regione, si potranno andare a trovare i congiunti, i congiunti e la mattina dopo, dopo dieci ore, specifica che i congiunti sono anche fidanzati, è una follia senza precedenti. Noi siamo assolutamente felici che si possa andare a trovare anche fidanzati, ma congiunti significa un'altra cosa, una legge non può essere interpretata in un modo così folle, è una aberrazione giuridica. Anche in questo decreto c'è stata una sincopazione ennesima, violenta, anticostituzionale della Chiesa, però finalmente, buon Dio, finalmente i vescovi italiani lo hanno scoperto, si sono decisi di uscire allo scoperto ed ecco la comunicazione della CEI, della conferenza episcopale italiana, che protesta, disaccordo dei vescovi. Finalmente i sacerdoti, i parroci di tutta Italia non sono stati lasciati soli, non sono stati lasciati soli alle intemperanze di forze dell'ordine che sono entrate con le pistole dentro le chiese, per fortuna una volta tanto la CEI finalmente si è ribellata. Allora, il dato è tratto, abbiamo redatto, preparato ed è pronta la querela dei cittadini italiani contro il governo della Repubblica. La querela, non fatevi prendere in giro da un sacco di personaggi in giro per il web, abbiamo presentato denuncia, sono tutti degli esposti che andranno a finire nel cestino, perché gli esposti vengono cestinati. Questa è una querela. Ogni singolo cittadino italiano mercoledì alle ore 12 sarà chiamato a depositare una querela su cui dovranno aprire le indagini i pubblici ministeri di ogni procura d'Italia. Gli italiani finalmente si sono ribellati, ma non si sono ribellati con i mezzi antidemocratici. I cittadini italiani hanno dimostrato anche questa volta grande maturità e con gli stessi mezzi che avrebbe dovuto usare il governo, cioè con la legge, con la legge si sono ribellati. Questa grandissima, meravigliosa, stupenda manifestazione democratica del popolo italiano ci onora e ci onora a rappresentarli. Rappresento in questo momento 3.000, almeno 3.000 cittadini italiani, almeno 3.000 cittadini italiani, ma non è una crescension di quelle che vengono pagate dalle associazioni dei consumatori perché ovviamente si prendono anche le sovvenzioni di Stato. No, cittadini singoli, coraggiosi, che sfideranno anche le forze dell'ordine, che proveranno a fermarli con la scusa che non si possono muovere. abbiamo dato a loro anche la giustificazione per quel giorno. Vediamo, quereleremo chi proverà a fermare questi cittadini. Allora, allora, la querela è pronta. L'abbiamo pubblicata sul nostro sito. Adesso vi faccio vedere prima la querela perché abbiamo partecipato tutti a questa estensione. Ebbene, questa è la querela del popolo. È il popolo che vuole giudicare il governo perché ricordatevi che tutte le sentenze dei tribunali iniziano sempre con la stessa frase. Il nome del popolo italiano. Ed ecco il frontespizio della querela. Ve la faccio vedere per soddisfazione. Eccola qui. Questa è la vostra querela. In questo caso c'è il mio nome, ma in ogni singola querela ci sarà il nome di ognuno dei cittadini italiani che vogliono un processo per questo governo. E allora abbiamo preparato la querela si potrà scaricare già da adesso sul nostro sito. Fotografate questa pagina che vi faccio vedere perché è particolarmente importante, perché così non c'è bisogno di spedire mail o altro. Eccola qui. Da qui ci sono le indicazioni fotografate per cortesia. Ci sono le indicazioni per andare sul sito, scaricare la querela, aggiungere i propri dati. Ecco qui. La lascio un altro popolo. Ve la farò vedere anche alla fine della trasmissione. E tra l'altro abbiamo preparato anche questa. Eccola qui. Fotografate anche questa. Questa giustificazione. Perché chi vorrà andare a depositiare la querela è giustificato da uno spettato di necessità previsto dalla legge. Ecco. Allora, amici cittadini italiani, mercoledì alle ore 12. Ognuno nella propria città, ognuno ha il proprio commissariato, ognuno ha la propria procura della Repubblica, ognuno dai propri carabinieri, presenteremo una querela per vilipendio della Costituzione e abuso di potere da parte del Governo. Noi cittadini italiani democratici useremo la legge per dimostrare che questi atti sono atti illegittimi ed incostituzionali. Quindi, scaricate la querela, ci vedremo tutti quanti, ognuno, faremo delle dirette di queste presentazioni, ognuno, ognuno nel suo comune, presso la sua procura e sfideremo democraticamente il Governo, perché non possiamo essere viripesi in questa maniera. Ancora, ancora 15 giorni e poi ce ne saranno altri 15 di arresti domiciliari. Nel frattempo non stanno con le mani in mano, nel frattempo stanno studiando come obbligarci a scaricare la famosa app Immuni. Ricordiamocelo, ricordatevi queste parole. Un abbraccio a tutti, concludiamo questa nostra breve ma intensissima trasmissione con la pagina dove potete scaricare la querela. Comunque domani sera parleremo dei verbali che vi hanno appioppato. Tenete presente che c'è l'ordine in giro di aumentare questi verbali, perché sono soldi per lo Stato. Ricordate i cittadini che tutti hanno un po' paura per la scredenza dei termini. I termini per l'impugnazione dei verbali a chi sono stati consegnati questi verbali di 400-500 euro scadrà il 15 giugno. Quindi abbiamo tutti i tempi per impugnarli. Vi abbraccio tutti con grandissimo affetto. Siamo riusciti ad ottenere un primo risultato, ma vinceremo anche questa grandissima battaglia. A presto.